Andiamo a Benfica-Stella Rossa, dopo aver perso per 3-2 nell'incontro d'andata a Belgrado, il Benfica sembrava poter passare agevolmente il turno ma deve aspettare i 5 minuti finali dopo una grandissima pressione e grandissime parate del portiere della Stella Rossa per trovare i gol decisivi. Li realizza entrambi Carlos e Manuel, questo il primo con un pallonetto e il successivo dopo 5 minuti al termine di un'azione più prolungata ed è anche bella nelle fasi finali anche se qualche svarione tutto sommato l'agevola nelle prime fasi. Ecco il colpo di testa che qualifica il Benfica per il turno successivo e elimina lo Stella Rossa di Belgrado. Grande entusiasmo di Carlos e Manuel.